bentornati tutti quanti come ripeto tutte le volte sarete in tre al massimo quattro come dimostrato nello scorso video in un nuovo video appunto nel quale cosa faremo giocheremo a sekiro eccolo qua premetto che non ho fatto colazione quindi mangerò un pochino durante il video allora l'altra volta ci eravamo fermati al serpentone io nel mentre non ho guardato neanche niente quindi non hanno idea di come si faccia spero di non bloccarmi troppo chi lo sapeva che cadendo mi sarei fatto male io non sapevo però non ci ho pensato magamato magamato non so se avete notato il cappellino di zelda molto inerente con quei videogiochi perché non c'è assolutamente nulla in un altro modo con sekiro ma io ho due va bene non so cosa siano ah eccole qua facciamo finta che il video inizia adesso ecco ancora un cretino caduto prima caduto anche adesso bene adesso oltre mezz'ora prima che lui passi l'altra volta che non mi aveva visto quindi teoricamente non dovrebbe vedermi penso sia fatto apposta questo punto e qua si avvicina io pà nell'occhio ora la parte divertente ma scusami eh si ma come lo faccio cioè non è fattibile l'unica strada è quella di là ma lui di mi ammazza allora io fino a quando sto a quest'altezza posso ancora generalmente guardarmi intorno una volta arrivato lì si triggera ma io non so no dio santo dio se vabbè ho capito ma scusami e poi cosa devo fare ah salire qua va bene tanto non pensare che sia finita eh salterà fuori di qui lo bevo perché perché ne sono già certo che che salti fuori ancora allora ma io voglio prendere questo oggetto sarà la mia morte vedremo si sentono già dei passi da sopra poco accattivanti poco coinvolgenti oh una statuetta preghiamo all'idolo e riposo allora vediamo un po' come come agire come agiamo sugar come agiamo mi vedono per forza oh poveri mi ha visto beh me la sono cercata devo essere devo essere sincero mi ha visto solo lui oh vabbè no senti fuck off easy 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 very easy queste sono delle pippe incredibili io che volevo farmela pure stealth capito quello però mi turba un attimino proviamo ma ho fatto bene a ucciderli non servono a nulla come di ma chi ma chi ma chi sta a casa ma non attaccano ma non attaccato allora allora lì c'è tanta morte devastazione corvi presagio di sventura di morti di 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 disgrazia quindi opinione mia boss fight andiamo appena appena prendo questo parte oh scudiaz e mamma come ti attacco io dunque lui è il demone ah io in quel momento ok ok ma dai che cavallo sì un colpo vuole essere un pochino più aggressivo mi sa no nel fuoco no nel fuoco no una fiaschetta ma ma sai in realtà basta gestirlo bene è fattibile non vedo c'era davanti la bandiera non vedevo ok la prima fase è fattibilissima nonostante io abbia speso tre fiaschette ma quello è un altro discorso va bene a parte che non sono ancora morto ma sono ancora volendo parlo ah ma sei ancora in piedi ebbene ebbene sì eccomi qua di quel periodo sì ma sto leggendo quella cosa mi si dice non puoi parlarmi in cinese e poi in giapponese cosa sto facendo cosa perché ho lanciato quello robo di fuoco lì ebbene meno grazie quindi però effettivamente mi stai dicendo che se lui se vedrete mai questo video vi girerà un pochino la testa porca vacca porca vacca oh ok sono già risolto sì devo farla perfetta ma dubito ce la farò adesso salta anche il cavallo porca vacca porca vacca cosa ce l'avevo fatta nooo 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 no non l'avevo ancora fa nooo 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 sono scemo io non potevo farglielo però mi prendo le compresse dov'è? dov'è? dai la telecamera su per favore non lo so io non so più cosa dire non vedo non vedo non vedo vedi come Cristo faceva farlo non si vedeva una sega di diventanti dai ricominciamo da capo ricominciamo da capo dai è che a volte non funziona e a volte non funziona non riesco a capire per quale motivo a volte non mi prenda il Perry non so come definirlo una parata comunque in qualsiasi caso sì Cristo sì 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 era una cavolata era una cavolata questo bastardo a cucciare anche il cavallo è morto anche lui quindi è stato un episodio interessante ditemelo nei commenti o non ditemelo nei commenti oppure ditemi di non dirmi che ditemi che non mi dite quindi ciao niente se volete scrivervi scrivetevi se non volete tanto non lo vedrà nessuno io e il cappellino di Zelda vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio episodio ciao ciao